buonasera per il ciclo serate divertenti va ora in onda no ne rossi va ora in onda cabaret li fai? si brava ci sono anche altre versioni buonasera per il ciclo serate divertenti trasmettiamo adesso affangula sorda cabaret uno show allegro e divertente in compagnia dello staff di animazione presentano angel david angel david angel david presenta tommy d con te che maia la camilla magdalene ed angel david special guest la cesira e la puttana della tua amica e la calogera a tutti voi buon diritto a tutti voi vaffanculo buon proseguimento di serata questa senza ditino testa limite non me lo fa fa quel verso non mi garba e buon proseguimento di serata